Buona giornata a tutti, oggi arriva una notizia dal Brasile, voi direte ma perché non arriva una notizia d'Italia? Perché purtroppo stanno ancora insediando i parlamentari, stanno creando le commissioni, leggendo i presidenti e insomma rimane, come avete visto, ancora una situazione un po' in divenire, almeno per un'altra settimana, settimana e mezzo, infatti poi dal 27 di ottobre faremo una riunione anche per vedere com'è il punto della situazione, ma oggi arriva la notizia del Brasile, infatti in Brasile sta lavorando nell'università di Botucatu, un gruppo, l'università UNESP, un gruppo interdisciplinare, quindi che abbraccia più di una disciplina, stanno lavorando su ricerca, scienza, ma anche geografia, storia, per cercare di arrivare a creare un nuovo metodo, da una nuova proposta di legge, ma anche una nuova metodologia di lavorazione all'interno di una proposta di legge per proporre delle sfumature che regolamentino la cannabis a livello sociale, a vantaggio della società e quindi lavorando bene su quello che può essere la ricerca, quello che possono essere gli studi scientifici, quello che può essere l'applicazione socioculturale, economica e quindi un nucleo appunto interdisciplinare, anche per poterlo poi proporre ai vari studenti, perché secondo appunto tanti insegnanti e tanti nuclei operativi appunto che si sono uniti per di varie discipline per lavorare su questo progetto, è fondamentale che si abbracci una conoscenza appunto interdisciplinare, trasversale su questo tema completa, perché la cannabis va a abbracciare tante situazioni, dell'agricoltura, l'economia, a livello socioculturale, politico, istituzionale, quindi ci sono tante situazioni di ricerca, medicina, quindi l'ambiente sanitario, sicuramente per sviluppare un progetto di legge completo servono esperti su tutti questi campi che siano correlati tra loro e non che arrivino singolarmente a dire da loro, questo progetto è fondamentale e noi siamo qua a rilanciarlo perché servirebbe anche che tutti partecipassero alle proposte di legge in Italia, come stiamo ben facendo con il manifesto collettivo use cannabis da diversi anni, ma serve sempre più partecipazione, sia dal punto di vista del settore medico, sia dal punto di vista del settore industriale e ovviamente dal punto di vista del settore politico. Bella a tutti i free readers, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo come sempre nei commenti. Fino a libertà!